Cosa trai da questa esperienza Anto? Non sei solo genitore ma sei stato anche figlio e quindi quando hai dei figli sii quello che sei stato con l'esperienza in più che hai e cerca di essere centro per te stesso ma il centro che sei tu lo sei anche per i tuoi figli Dopo me la riguardo a casa che... Per capire se ha un senso Se ha un senso Antonio dove è la camera? Avrà detto una supercazzola? O aveva senso? Siete riusciti a seguirlo? Sì scrivete, commentate questo podcast Dicono qui sotto no? Dico qui sotto, qui sopra Uppà! Uppà! Uppà!